buongiorno 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 oggi è 5 dicembre venerdì san consolata san bernarda è vero è vero noi siamo di barlett e basta questo lo diciamo in italiana non parlate a vest siamo quasi a meno due giorni meno due giorni e l'albero di natale si farà si farà si farà grazie a tutti i partecipanti da ora venite come volete tanto vi daremo tutto noi cappellini niente e maglietti niente di daremo gelati aranciati e birra e coca il nostro casca sia da venire a come volete e vi daremo noi qualcosa per fare la scenografia e oggi è venerdì vorrei salutare le due ragazze di merce le due cugine di flora le cugine amerotti o amerotti non mi ricordo come si chiama che mi seguono e tutti quelli che mi seguono un grosso saluto vi ringrazio nel rosso il pazzo vi saluta eh sì 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 diciamo che è a ieri più vite e che le ha pagurano speriamo che non gli ho però vedi il sole già ci bacia perché il sole bacia i belli e bacia sempre barletta speriamo 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 io dico che andrà tutto bene perché possiamo entrare nella storia ragazzi voi non vi rendete conto voi non vi rendete conto potete fare l'albero più grande del mondo ma cosa significa ragazzi ma lo sapete io c'ero io c'ero io c'ero io c'ero e voglio che non è una cosa a rete un saluto a pepe rizzi mio mio fratello è un grande amico mamma ma quando aveva il scatino veramente che mi vogliono bene mi vogliono veramente bene quelli che vogliono veramente bene io li saluto con il cuore l'importante è che Gesù ci faccia alzare la mattina e ci dice sempre vivete la vita vivete il giorno invece la bella dice buongiorno 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 è un duro di dio ancora pensateci così non pensate al male pensiamo sempre al bene perché aiuto Gesù aiuta sempre gli allegri e io sono allegro ma quando hai un problema che non ho immaginato nemmeno niente non è che voglio essere sempre polemico Enzo Delvi e Tonio Piccolo tutti i collaboratori veramente stanno a dirà c'è una spaccoglietta che sono fatto ragazzi ragazzi grazie se parlate da questo è pure avvio di tutti i 10.15 inscritti parlate da questo è vostro ricordatelo e noi cercheremo di portarlo sempre avanti questa questo nome è questo orgoglio barlettano oggi ho fatto una zona un po' particolare quasi viatturati baggiù il freddo allora niente un saluto di vero cuore e auguri a tutti i compleanni matrimoni le solite cose vi auguro il meglio che c'è da barletta a vesto dell'urus ciao e voglio venire a lei entrate nella storia meno due giorni ciao ciao